Musica L'EDP dai giardini luzzati, la panchina che ci ospita questa mattina vede intanto come protagonista un bel mazzo di chiavi, sembrano un po' quelle di San Pietro, in realtà sono le chiavi che tra le altre cose governano l'entrata e l'uscita dei giardini luzzati, perché ci sta per raggiungere sulla nostra panchina il presidente dei giardini luzzati, Marco Montoli, eccolo qua, che ci raggiunge con passo sveglio, a cui restituisco intanto il mazzo di chiavi molto importante, perché gestiscono non solo i giardini luzzati ma tutta l'associazione Il Cesto, Marco. Buongiorno. Quindi l'associazione che gestisce i giardini ma non solo, voi siete molto impegnati sul sociale, siete soprattutto impegnati a rendere questa fetta del centro storico più abitabile, più vivibile. Il nostro impegno dell'associazione è da 30 anni, in particolare è concentrato nei giardini luzzati negli ultimi tre anni, siamo impegnati da sempre in attività rivolte all'infanzia, all'adolescenza, ai bambini e ai ragazzi e a partire dal loro impegno con attività educativa e aggregative cerchiamo di lavorare su tutte le aree di popolazione, dare supporto alle famiglie e lavorare anche per una proposta culturale aggregativa all'interno di tutto il centro storico, che ne migliori la qualità della vita, la vivibilità e quindi grazie all'impegno nei giardini luzzati abbiamo incentivato questo aspetto dell'aggregazione. Ecco, su questo proprio torniamo a quello che è successo purtroppo nelle ultime settimane. Fate di cronaca che hanno portato questa zona di nuovo insomma un po' al centro del ciclone, un omicidio con dei dettagli ancora non chiari ma che ancora una volta vede un maggiore impegno da parte vostra. Questo è un ulteriore stimolo per noi, in questi anni abbiamo molto lottato per affermare un'immagine positiva dello stare e venire e vivere il centro storico che rivendichiamo, è così, ovviamente il centro storico è molto grande e la vita cambia anche a centinaia di metri di distanza, i giardini luzzati per la nostra esperienza che è un luogo abbandonato, dove era difficile venire, dove non ci si stava bene, pur essendo un posto meraviglioso, è perché non era frequentato, attivato e vissuto in maniera positiva. La nostra esperienza è che rivitalizzando i posti vengono vissuti, percepiti e vengono eliminati o perlomeno attenuati i fenomeni di violenza, di disagio, di degrado che si vive in questi posti. E non a caso voi partite dal coinvolgere soprattutto i bambini per, noi chiediamo ai nostri ospiti di solito un consiglio letterario ma adesso invece vi facciamo vedere un po' in anteprima quello che è un bel progetto di giardini luzzati. In anteprima sarà la comunicazione che riprende un po' la comunicazione fatta da Bansky su Parigi che secondo noi è un punto di genialità assoluta perché a partire da un fatto molto negativo, brutto che può richiamare alla violenza, all'ulteriore, all'intolleranza, lui ha fatto a partire da Parigi un simbolo della pace. Vogliamo un po' nel nostro piccolo, umilmente, riprendere l'idea, riprendendo l'idea della lanterna che può essere simbolo di pace anche in centro storico e il muro dove è stato teatro di questo brutto posto che è un brutto posto, vogliamo anche ripiturarlo, ridipingerlo con la vitalità dei bambini e farlo diventare come, speriamo che lo diventino sempre più vicoli di questo centro storico un punto bellissimo dove ci possa incontrare, dove si possa far crescere i bambini nella pace che speriamo siano la nostra speranza. E questo sarà quindi il muro della pace. Grazie a Marco Montoli per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata.